Bene, possiamo cominciare visto che la sala con nostra grande soddisfazione si è riempita. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata. Vedrete che questa conferenza vi sarà senz'altro molto gradita. C'è chi conosce già magari che cosa sono i probiotici. Questa sera pensiamo di poter dare altre informazioni. Chi non li conosce sicuramente avrà la possibilità di conoscere un mondo davvero affascinante. Ringraziamenti naturalmente alla Bromatec, che appunto questi probiotici li produce già da molto tempo, e dalla Clinica Sant'Anna di Lugano, che in Bromatec e in Clinica Sant'Anna di Lugano hanno deciso di sostenere questa serata informativa dedicata ai batteri dell'intestino e ai probiotici. Ecco, qui vedete i nostri... Dunque, il titolo è Salute dell'intestino e salute del corpo. Alimentazione, flora batterica e probiotici. Flora batterica, ma allora i batteri sono dei nostri nemici oppure ci sono dei batteri che sono utili? Beh, noi siamo più o meno, quasi sempre, propensi a considerare i batteri come dei nostri nemici da sconfiggere ad ogni costo. E magari si esagera anche, perché sapete probabilmente che uno dei grossi problemi della medicina contemporanea è la cosiddetta resistenza dei batteri agli antibiotici, perché di antibiotici molto spesso si abusa. Purtroppo l'industria farmaceutica non è molto propensa a trovare nuovi antibiotici ed effettivamente questo è un problema. Ecco, però ci sono moltissimi batteri che invece sono assolutamente utili, anzi indispensabili, per vivere in maniera corretta. Naturalmente questi batteri non sono presenti soltanto nell'uomo, sono presenti in tutti gli esseri viventi. E' stato un processo molto lungo attraverso milioni e milioni di anni di adattamento tra l'uomo e i batteri. Diversi batteri di cui parleremo questa sera probabilmente li conoscete già, conoscete almeno il nome. Se andate al supermercato o se vedete certa pubblicità leggete bifido batteri, latto bacilli. Ecco, questi appunto sono batteri che sentiremo citare nel corso della conferenza. Questi batteri, cominciamo a vedere un po' da vicino, un po' da vicino dove... Che succede? No, scusate. È vero. Allora, qui cominceremo a imparare alcuni termini che poi sentirete citati nel corso della conferenza. Ecco, il primo termine è microbiota, si usa anche il termine microbioma, ma questa sera usiamo il termine microbiota. Il microbiota è l'insieme di tutti i batteri che sono presenti in un certo ambiente, per esempio il corpo umano. Dove si trovano? Beh, si trovano un po' dappertutto. Li troviamo nell'apparato respiratorio, negli organi dell'apparato genitale. Abbiamo molti batteri presenti sulla pelle. E poi, diciamo che il grande serbatoio dei batteri che sono utili, delle microbiota, sta nell'apparato digerente. Nell'apparato digerente è presente la stragrande maggioranza, possiamo dire, dei batteri che sono presenti nel nostro corpo. E in particolare, come appunto sentiremo nel corso della conferenza, si trovano soprattutto nell'intestino, nell'intestino tenue, ma soprattutto nell'ultima parte dell'intestino, quello che viene chiamato il grosso intestino, che è il cosiddetto colon. Quindi questo è il microbiota. Che cos'è un probiotico? È un insieme, una miscela di batteri di diverso tipo, poi come ci dirà il dottor Lozio, sarà anche importante considerare che non ce ne siano troppi nei probiotici, che viene somministrato, questo probiotico viene somministrato a scopo terapeutico. Quale scopo terapeutico? E qui introduciamo altri due termini, la eubiosi e la disbiosi. Eu in greco vuol dire bene. E infatti, che cosa succede nell'eubiosi? Che le diverse specie, i diversi tipi di batteri che sono presenti in un certo ambiente, per esempio nell'intestino umano, sono in una condizione di equilibrio. Perché dovete pensare che di questi batteri, per esempio nel nostro intestino, ce ne sono in una quantità enorme, sono miliardi e miliardi. Le specie presenti sono tantissime, tant'è vero che non si sa neanche quante diverse specie di batteri esistono, poche centinaia, qualcun azzardo che ce ne siano addirittura diverse migliaia di specie differenti. In una condizione di eubiosi, questi diversi tipi di batteri sono in equilibrio fra di loro, si rispettano, non si fanno la guerra. Per esempio, noi abbiamo su 100 batteri, ce ne possono essere 50 di un certo tipo, 30 di un altro tipo, 20 di un altro tipo ancora, e queste proporzioni, naturalmente questa è una schematizzazione proprio assolutamente elementare, questo equilibrio determina appunto una condizione di eubiosi. Conseguenza importante, se c'è questa condizione di equilibrio, i batteri che sono potenzialmente pericolosi, i batteri patogeni, vengono, diciamo così, tenuti sotto controllo. Abbiamo una condizione di armonia di salute. Disbiosi, invece, è il caso totalmente diverso. Infatti queste diverse specie di tipi di batteri che prima erano in equilibrio, a un certo punto, per motivi diversi che appunto sentiremo nel corso della conferenza, non sono più in equilibrio. C'è un disequilibrio, l'equilibrio si è rotto. Quindi quelle proporzioni che abbiamo visto esistere nel caso dell'eubiosi, non ci sono più. C'è una specie batterica, uno o più specie batteriche, che prevalgono sulle altre. Questo poi determina delle conseguenze, come vedremo, molto importanti per quanto riguarda la salute. E in questo modo che cosa succede? Che i batteri potenzialmente pericolosi, i batteri patogeni, non vengono più tenuti sotto controllo e a questo punto abbiamo una condizione che è appunto di disequilibrio e di malattia. Ecco, per tornare ai probiotici, quando si possono usare i probiotici? E poi vedremo che ci sono anche delle regole ben precise. Si usano appunto quando c'è una disbiosi, quando l'equilibrio si è rotto. Lo scopo quindi è quello di riportare l'equilibrio, quindi la proporzione dei batteri, in quelle che sono le giuste dimensioni. Quindi ristabilire le funzioni normali che si erano rotte quando si era rotto quell'equilibrio, ovvero riportare una armonia. Ecco, queste sono solo delle... tanto per dare appunto delle definizioni, per sottolineare alcune parole che poi appunto sentirete nel corso della conferenza. Volevo semplicemente, prima di dare la parola ai nostri relatori, dire che quella della probiotica è una vera e propria scienza. Quindi non sono... purtroppo ci sono tanti ciarlatani nel campo dei probiotici. Pensate che gli studi sul microbiota, quindi sui batteri che sono presenti negli organismi, e gli studi sui probiotici, 15 anni fa, quindi siamo negli anni 2000, c'erano poche decine di studi scientifici che uscivano ogni anno nelle riviste specialistiche. Nel 2015, l'ultimo dato che abbiamo a disposizione, sono usciti quasi 6.000 studi dedicati al microbiota e ai probiotici. E non riguardano soltanto la medicina umana, perché riguardano per esempio anche l'agricoltura, riguardano la medicina veterinaria. Faccio solamente un caso. In Cina, negli allevamenti dei pesci, si stanno studiando l'uso dei probiotici per tenere sotto controllo le malattie che si possono verificare in questi allevamenti al posto degli antibiotici. Do subito la parola al nostro primo relatore, il dottor Luciano Lozio, che i probiotici li studia da una vita. Non da una vita proprio, ma insomma quasi. Ora, mi metto qua, cosa almeno vi sentite tutti. Ok. Noi abbiamo questo organo, come è stato detto adesso da Sergio Ghi, che è un organo a sé stante. I batteri sono 100.000 miliardi, cioè dieci volte le cellule del corpo umano. Sono decisamente un numero molto elevato ed è un numero che si è moltiplicato e poi si è anche un po' autolimitato in base allo spazio e anche a quello che noi mangiamo. Perché uno ha un certo tipo di batteri e un altro ha un altro tipo? Perché molto dipende da quello che noi mangiamo. Ma ricordiamoci una cosa, la prima dotazione di batteri viene data dalla madre. La trasmissione batterica è sempre materna. Quindi l'impianto di base, diciamo l'imprinting di base, è la madre che lo trasmette attraverso il parto naturale. Quindi già un bambino che nasce con parto cesareo è messo un po' male perché comincia ad avere delle colonizzazioni un po' casuali e non invece materne. Poi la seconda colonizzazione che noi veniamo ad avere è per contaminazione diretta durante il parto. Quindi la bambina attraverso il canale del parto mangia un po' di batteri della mucosa vaginale poi un po' è brutto dirlo, un po' di feci materne ma essendo un animale siamo tutti coprofagi. L'impianto batterico nasce con questa seconda contaminazione. La terza è quella di quando il bambino poi dopo viene appoggiato al seno materno e lì altri batteri mangiati. E poi qual è la quarta contaminazione? Sono i parenti perché i parenti prendono sto bimbo se lo mettono lì che è bello che è bello e gli fanno un bel aerosol di batteri che escono dalla bocca perché la saliva è impregnata di batteri, la bocca è piena zeppa di batteri, è una fogna proprio, se vogliamo guardare anche appena lavata è terribile perché se uno, e la si chiama anche la tomba del biologo perché in bocca c'è di tutto, quindi è una roba veramente notevole. E quindi più parenti ha un bambino, più vicini di casa, più condomini ha, più soggetti viene a conoscere, più lui riceve una contaminazione che è una mano santa, è una benedizione del seno perché più batteri il bambino riesce a recuperare in quel periodo, meglio è. Poi, fatto questo lavoro, il bambino che cosa va a fare? Va ad essere allattato, guardate che la madre trasferisce con il latte soltanto i bifidobatteri perché sono i batteri più importanti, ma ne trasmette una quantità enorme di batteri e tra parentesi la cosa bella è questa, nel latte materno che vi dico subito è un'opera d'arte perché è un'opera assoluta e bisogna sempre, quando c'è il latte, darlo. Il latte materno contiene anche adesso una sostanza che non si era mai capito perché fosse contenuta all'interno, perché è una roba assurda, cioè contiene l'inulina. L'inulina è una sostanza indigeribile per qualsiasi intestino umano, non serve a nessuno. Ora, mettere nel latte materno una roba inutile è una roba strana. Bene, è stato scoperto, ma mica tanti anni fa, non pensate mica che l'hanno scoperto nell'ottocento, l'ha scoperto in questi decenni, che questa inulina era il cibo prediletto per i bifidobatteri che la madre trasferiva con la lattazione. Quindi la madre dava il batterio e siccome il batterio non doveva mangiare il cibo del bambino perché insomma c'è il bambino che si vedeva per lui, gli dava quella che in Milano si chiamava la schiscetta, gli dice te prendi il batterio e poi la schiscetta te mangia e via. Il sistema si elimina e quindi dava da mangiare i batteri con il suo mangiare, che era una meraviglia, era proprio veramente la natura è fantastica e dopo creava ulteriori colonizzazioni sequenziali e via. Ora potreste dire che cosa vuol dire avere i batteri o non avere i batteri, ma sappiate che questa colonizzazione è prioritaria, è primaria e resta come imprinting per tutta la vita. Tant'è vero che l'FDA americana aveva autorizzato un esame fatto sul DNA batterico perché si poteva individuare dall'analisi del microbiota di una persona se questo chi era, prima di tutto perché l'imprinting è personale e soprattutto dove era stato negli ultimi 15 giorni, cioè in base al tipo di cibo che lui aveva mangiato aveva aumentato o diminuito determinate colonne batteriche, quindi l'FBI lo usava per incriminare qualcuno ed è un esame validato ed è meraviglioso questo sistema. Quindi noi abbiamo tutti questi batteri che stanno nell'intestino, nell'intestino ci stanno perché loro devono fare un lavoro fondamentale. Quando voi mangiate, voi dovete ricordarvi che ingerite un cibo che deve essere lavorato, l'intestino lo prende, lo lavora e avete il ciclo enteroepatico, cioè il mangiare dall'intestino va nel fegato, benissimo, arriva nel fegato, il fegato fa un ulteriore lavoro e poi distribuisce il cibo ai vari organi, a tutti, tranne che all'intestino, perché è troppo grande, è grande quasi come un campo da tennis, quindi è sterminato, non si può utilizzare, c'è chi dice 300, chi dice 400 metri, no, non è questione di un metro in più, un metro in meno, è sterminato lo stesso. Per cui ci si è chiesti, ma i batteri, cioè le sguate dell'intestino, come fanno a non morire di fame? E la natura ha detto, signori, vi passa davanti tutto, ma arrangiatevi, mentre transita servitevi e vi arrangiate già, ma chi è che cucina? Il fegato cucina il cibo per gli altri, ma chi cucina il cibo nell'intestino? Sono i batteri, se voi non avete i batteri, voi avete il cibo, ma non lo potete usare, quindi i nostri batteri nell'intestino fanno un lavoro di supplenza epatica e secondo voi è roba da poco, cioè fare il lavoro del fegato è un lavoro fondamentale, perché se voi non trasformate gli zuccheri in strutture utili, cioè acido butirico, se non sto qui a non arrivare con i vari nomi delle varie sostanze, ma in un cibo usabile io non ho niente, cioè se io ho una bistecca ma nessuno me la cucina, va bene, se io ho la pasta da mangiare ma nessuno mi dà una pentola per cucinarla, cosa me ne faccio di avere la pasta in casa? Niente, quindi i batteri nel mio intestino servono esattamente a trasformare un cibo, va bene, che mi arriva, un nutrimento, in un qualcosa di usabile e non è un giochino da poco, avere i batteri fa la differenza rispetto a non averli, perché vuol dire digerire o non digerire, utilizzare o non utilizzare, però noi mangiamo, i batteri alla fine ce li date nostra madre, un po' muoiono di vecchiaia perché insomma ancora non è che hanno la vita eterna, ma come faccio io a rimpiazzare i cadaveri? Un po' si moltiplicano ma io ogni giorno mangiando dovrei ingerire un po' di questi batteri. Questo era vero, era vero, oggi non è più così, oggi purtroppo, purtroppo non è un po' di dire perché poi non è purtroppo, l'astrealità domina, per cui noi mangiamo cibi che sono praticamente sterili e anche se fossero bio, più bio del bio, ricordiamoci che sono in ogni caso concimati con feci animali, siccome i batteri sono rigorosamente specie specifici, io per mangiare bio vero dovrei mangiare verdura concimata con feci umane, è proibito da tutti perché sennò potrei concimare anche con la salmonella che non è proprio la migliore. Quindi giustamente le autorità hanno detto che le feci umane non si possono usare per il concime, il cibo a questo punto cresce su concimi o chimici o animali e quindi noi andiamo a perdere costantemente la presenza di batteri probiotici perché dobbiamo campare tutta la vita con quello che ci ha dato la nostra madre, che ci si avrà anche tanto bene però insomma sono quelli che sono del primo anno di vita, quando ho finito di succhiare il latte della madre non ci odio più. Come faccio ad arrivare a 80 anni, 90 anni, 100 anni con questi batteri e magari una rimpolpatina fatta con qualche capsula non sarebbe proprio tanto male perché riuscire a dare questi batteri a una persona vuol dire ripristinare la sua funzione digestiva. Noi abbiamo tantissime malattie che stanno venendo fuori da carenza di batteri perché vedete l'intestino è l'organo da cui tutto è stato creato, è l'organo più antico, è il primo e nell'intestino c'è il primo cervello. Io quando sento qualcuno dirmi c'è il secondo cervello ma rabbio. Prima perché è nato prima lui, quindi già il diritto di primo genitura è primo, ma poi il cervello dell'intestino guardate che è più importante dell'altro che abbiamo sulla zucca per il semplice motivo che se voi avete fame, se avete il mal di pancia, questo intestino modifica il vostro comportamento, la vostra relatività, la vostra vita. Provate voi a ragionare con una persona con un bel mal di pancia, voglio vedere voi come ragionate, però se voi fate la meditazione yoga il mal di pancia non vi passa. Quindi vuol dire che il cervello intestinale governa su quello superiore e non è vero il contrario, perché non è il doppio senso, è quello dal basso che governa. E quindi è importante avere un intestino ben piazzato, ben sano, ben fatto, va bene, a non avere tutte queste problematiche. Ma devo prendere dei batteri giusti, dei batteri sani, dei batteri umani, prima di tutto, che abbiano la capacità di impiantarsi. Bisogna stare attenti a non prenderne troppi, bisogna prenderli un po' per volta, non bisogna mai prenderli per lunghi periodi, bisogna prenderli per periodi medici, massimo 20-40 giorni, ecco, non fa mai, è una cosa pericolosa, stare lì a pericolosa. È inutile stare lì a prenderne tanti, più di tanto non servono. Servono quelli mirati, servono quelli giusti e servono quelli sequenziali, perché un'altra caratteristica che hanno i batteri è che noi ne abbiamo tantissimi, abbiamo tante famiglie, più o meno pare che siano circa 1.400 le famiglie, ognuno di noi in questo mazzo ne può scegliere tra 4 e 500 ceppi. Se uno mangi in maniera monotroce, mangia sempre quelle cose, finisce per avere anche 100-120 famiglie batteriche e queste assolutamente non va per niente bene. Però diciamo che mediamente una persona sana ne ha 400 di famiglie, benissimo, però tutte queste famiglie vanno alimentate, bisogna dargli da mangiare, bisogna dargli sempre qualcosa di buono, quindi l'alimento è fondamentale, ma non è fondamentale sotto l'alimento, ma anche il tipo di batterie che noi ingeriamo. E poi abbiamo i bifidi nel tenue, i lattobacilli nel colon e li abbiamo nello stomaco e nel duodeno. Perché? Per un motivo semplice, la burocrazia di uno Stato si svolge all'interno dell'intestino tenue, lì ci sono tutte le elaborazioni. Abbiamo poi i batteri che possono entrare dall'alto, quindi dalla bocca, che devono essere controllati, quindi a livello dello stomaco e del duodeno noi abbiamo la dogana che fa entrare solo chi può e chi deve entrare, chi deve stare fuori non lo fa entrare, l'acido dello stomaco brucia, bolle, per cui non riescono a passare velocemente perché l'acido li bolle, quindi li ributta indietro i batteri e l'acido si ricuoce. Però abbiamo una quantità assurda, veramente impressionante di batteri nel colon, che dove vogliono venire? Questi vogliono migrare, perché nel colon c'è combattimenti, c'è guerra, c'è macello, c'è da sgomitare, sono in tanti con quel poco di roba che c'è da mangiare, cioè non è un bel posto dove campare, perché c'è da litigare tra uno e l'altro. Allora cosa fanno i batteri? Cercano di migrare dal colon per salire nel tenue, tenue è il paese del Bengodi, perché c'è da mangiare, c'è tutto e nessuno che ti rompe le scatole, è una meraviglia. Quindi i batteri vogliono salire e lì abbiamo una grossa concentrazione di lattobacilli che servono proprio per fare il contenimento, la riduzione della quantità di batteri e tenerli un po' fuori dai piedi, cioè in pratica li cercano di emarginare e dice tu se vuoi mangia quello che io rifiuto, quello che io non mangio, quello che a me non serve, beccatelo te e mangiano quello che gli passa il convento, va bene? Quindi c'è questa sistemazione, poi abbiamo nell'intestino, se vi può interessare, così almeno andate a dormire tranquilli stasera, circa 6.000 tipi diversi di virus, il numero non lo sa nessuno, ma sono 6.000 tipi di virus diversi. Poi abbiamo i funghi, c'è l'intestino, signori c'è da mangiare, dove c'è da mangiare arrivano tutti, va bene? Quindi è normale, più c'è da mangiare più si sta bene e più si arrivano, arrivano i buoni purtroppo, cioè pochi sono, ma i cattivi sono molti di più, quindi arrivano tutti a mangiare. Però abbiamo anche molti virus che fanno del bene, perché ci sono molti virus che uccidono i batteri patosi, quindi abbiamo quelli che si chiamano i faci, che invece fanno un ottimo lavoro di contenimento batterico. Quindi quando noi abbiamo i batteri buoni che cosa fanno? Li vedete qua, vanno in vacanza, che bello, c'è da mangiare, c'è la temperatura, tutto sta bene e loro mangiano. Già, ma mangiano, ma cosa fanno? Mangiano e basta? Eh no, bisogna anche che loro ci restituiscono un po' i favori, noi gli facciamo dei favori, cioè ti do da mangiare, ti do il calore e te non mi dai niente, non mi dica giusto. Cosa danno loro? Loro fanno l'idrolisi dei polisaccaridi, cioè degli amidi, va bene? E anche delle fibre, per creare nutrienti per l'ospite. Quindi loro mi creano il nutrimento, che cos'è? Di solito il prodotto più comune è l'acido butirico. Il butirato serve come benzina per le cellule. Se io ho benzina per le cellule, le cellule campano perché c'è la benzina, si muovono, lavorano. È la corrente elettrica che io do alla cellula. Se io non do questa sostanza, io non ho questa corrente elettrica e il sistema va in crisi. Vedete qua? Trasduzione dell'energia nei colociti, cioè io passo, trasformo una corrente. Poi ho la crescita e la differenziazione cellulare, cioè controllano in maniera precisa la moltiplicazione cellulare, cioè l'acido butirico. Non vi spiego il meccanismo perché è abbastanza complicato, però sappiate che il più potente preventivo dei tumori. Chi ha tanto acido butirico può sempre ammalarsi, perché non è che uno firma una gambiale e siamo sicuri, in medicina questa roba qui non esiste. Però si è visto che chi mangia tante fibre ha tanto acido butirico e l'acido butirico si è visto che più ce n'è e più si è protetice. Percentualmente si vedono questi risultati. E poi c'è un controllo epatico del metabolismo dei carboidrati e dei lipidi. Questo vuol dire una cosa molto semplice, che sono i batteri i principali attori che vi tengono bassa la glicemia e i trigliceridi. Se voi non avete batteri rischiate di vedervi alzare la glicemia che voi sapete che quando si alza si chiama anche diabete. Quindi il diabete, che poi dopo è anche dato da l'insulino resistenza e da altre cose, da altri fattori, ha come matrice, come partenza iniziale. Beh, intanto come non c'è troppi zuccheri. Vabbè, e questo purtroppo è un difetto. Ma soprattutto, il problema è che poi non è neanche soltanto zuccheri, perché il diabete è una malattia metabolica, non è una malattia degli zuccheri. Questo è importante dirlo. Se no dopo il dottor Bianchi e dopo mi sgrida e dopo finisco male. Ma il problema è che mi vanno proprio a lavorare. Se visto come un'implementazione delle terapie per il diabete con i batteri fa abbassare l'uso dei farmaci, proprio diminuisce l'uso dei farmaci e il soggetto avanza la malattia molto più lentamente. Va bene. E poi cosa producono i batteri? Le vitamine. Cioè la vitamina è un qualche cosa di fondamentale. È essenziale la vitamina, tutti lo sanno, ma se io prendo antibiotici, va bene, perché non è che io sia contro gli antibiotici, me ne liberi, ma l'antibiotico non è che non ammazzi i batteri. Me li ammazza sì, anche i cattivi, ma anche i buoni. E io vengo a perdere la produzione di vitamine. I batteri fanno vitamine. E le vitamine sono fondamentali. Vedete alcune vitamine, ma soprattutto vedete questa che è la B2 e questa che è la B3. sono due vitamine che sono fondamentali per la produzione energetica. Sono due vitamine che trasportano gli elettroni. Sono uno la matrice del FAD e l'altro del NAD. Ora, se io non ho queste due vitamine, signori, non si respira. La cellula non funziona. E questa roba qui la producono i batteri. Sono i batteri che la fanno. Non è che la faccio io. O me la mangio, però attenzione, me la mangio. L'insalata non è che fabbrica le vitamine. L'insalata gliela fabbrico nei batteri. E quando io la taglio, la devo tagliare, ma sta roba qui è delicata. Basta che io la lavi con bicarbonato, che la lavi con la mucchina, che la lavi con qualsiasi altro prodotto. Se comincio a lasciarmela lì mezz'ora, va bene, si ossida. Se la taglio col coltello non di ceramica, le taglio, queste vitamine vanno tutte quante a farsi friggere. Quindi attenzione che la carenza vitaminica è dietro l'angolo. Molto spesso uno sta male perché mancano delle banalità come le vitamine. Sono veramente le cose banali e mancano. Questa è la B12 che comunque la producono i batteri ma non servono a nulla perché manca il suo fattore di assorbimento, che è il fattore di crescita. L'acido propionico, che è l'acido come si chiama, il fattore di casta. L'acido propionico è un acido grasso di una semplicità terribile, però lui attiva quella sostanza qui che vedete qua in cima, si chiama AMP ciclico. Adesso a molti di voi non dice nulla, ma questa sostanza qui è fondamentale per il ciclo di Krebs, cioè per la produzione energetica. L'acido propionico è l'elemento fondamentale di partenza per bruciare zuccheri, per bruciare grassi e per produrre energia. È quello che vi fa aprire le paratie di una diga e permette all'acqua di scendere e di far girare le turbine. Se la paratie è chiusa, signore, qui l'acqua non cade e la corrente non c'è. Va bene? L'acido mutilico, ve l'ho detto prima, che si produce in grande quantità, ce l'avete in vari formaggi. Adesso qui l'ho messo parmigiano reggiano, però l'avete anche nell'Emetter, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi. Tutti i formaggi lo fanno, perché qui se in Svizzera parlo male dell'Emetter, guai, mi picchia, non se me lo dimentico. Va bene? Anche perché poi la valle che c'è lì per andare su a Berna è benissima, quindi fanno un formaggio sicuramente ottimo. Va bene? Ma è una sostanza che è meravigliosa, ma c'è una puzza, ma una puzza che voi non avete un'idea. Praticamente l'acido mutilico è l'odore delle armi chimiche dei bambini. Sai quando gli togliete via le scarpe da ginnastica e le mettete su davanzare perché va ammazzano? Quello è l'odore dell'acido mutilico che viene prodotto dal bambino, dai batteri presenti sul piede del bambino, perché il bambino non avendo uno strato corneo che lo può proteggere, per proteggere la pelle dalle screpolature, dalle ferite, producono questo acido mutilico che poi è terribile, che dice, mazza, una roba terribile. Qualcuno di voi che ha i bambini piccoli sa di che cosa parlo. Va bene? E poi produce l'inositolo, produce anche altre cose, ma produce l'inositolo. L'inositolo è una sostanza, per esempio, che sequestra per complessazione tutte le sostanze tossiche che voi mangiate. Uno dice, ma io non mangio sostanze tossiche, io mangio bene. Bene sì e bene no, perché tutte le volte che voi cucinate e alzate la temperatura sopra i 100 gradi, voi degradate molte molecole e fate, producete voi sostanze tossiche, che possono essere ritrosamine, ammine, etrusiche aromatiche, bezopireni, acrinamidi, ce n'è una fila. Bene, sono tutte sostanze genotossiche, cioè distribuono il DNA, cioè creano i tumori. E perché non vi vengono? Perché avete i batteri che con l'inositolo ve le portano via. Se voi respirate sostanze tossiche, come può essere mercurio, perché adesso nessuno si mangia più il termometro, anche perché è proibito, ma se uno mangia mercurio, mangia arsenico, arsenico e merletti, ma non c'entra, ma arsenico c'è dentro in molti cibi, cromo, il, si chiama, ah miseria, adesso mi vengono più in mente, comunque tutti i metalli pesanti, c'è moritino, ce ne sono più di uno, l'alluminio per esempio, che è leggero, ma l'alluminio poi è catalogato tra le sostanze pesanti, l'inositolo lo complessa e lo porta via. Quindi voi se avete questi batteri che fanno queste sostanze, anche se involontariamente doveste andare a mangiare cibi pericolosi, sostanze pericolose, loro senza dire niente portano via. Questo è il ringraziamento con cui i batteri ripagano l'alloggio che gli date, quelli buoni, anni, va bene? Quindi è una buona restituzione, però bisogna stare attenti anche a un'altra cosa con l'inositolo, viene prodotto l'inositolo, butirrato, è proprio nato, ma dovete anche avere i batteri, vi ripeto, oggi di gente con i batteri ce n'è sempre meno, perché tra quello che si mangia e quello che noi abbiamo usato e con quello che noi non riusciamo più a implementare, noi diamo incontro a una ricca perdita di batteri, ma veramente ricca, e da lì nascono poi una sequela di malattie che molte volte voi non collegate, per esempio le malattie della pelle, dermatite, dermatose, eczemi, acne, ma anche soltanto un calazio e un orzaiolo, ricordatevi che sono tutte figlie della parola che diceva prima Sergio, della disbiosi, uno diceva che c'entra il calazio e la disbiosi, è figlio esclusivo della disbiosi, devi curare quello, sono il calazio, ti viene un'altra volta e ti ritorna, non c'è niente da fare, molte malattie dermatologiche sono figlie di un problema del genere e non solo, sono quelle metaboliche, molte malattie che uno manco se le sogna, ma non c'è collegamento, non è vero, io ad oggi un collegamento tra intestino e una malattia ancora non l'ho trovato che non ci sia, c'è in tutti, o diretto o indiretto, ma c'è sempre, non esiste una malattia, non c'è una malattia, a meno, poi magari vedremo nel futuro, in cui non sia rapportabile un guasto, un danno o una importanza da parte dell'intestino. Quindi prendendo l'inositolo per esempio noi mettiamo a posto l'LH, mettiamo a posto il rapporto con l'FSH, cosa sono? Gli ormoni che governano la fecondazione, noi facilitiamo la fecondazione, ma non solo, se abbiamo una persona con l'ovaio policistico, che ce ne sono tanti ragazzini, la mettono a posto e sono i batteri, quindi magari si può dare una mano prendendo anche una pillola, ma in ogni caso i batteri vi danno un ottimo trattamento e la persona rischia di andare a posto senza prendere farmaci. Perché ricordatevi una cosa fondamentale? La malattia, tutte le malattie, nascono da una rottura di un equilibrio fisiologico, cioè io fisiologicamente su tutto che funziona bene sono sano, la malattia nasce quando questo equilibrio si rompe. Per rimettere a posto e riportare in salute il soggetto io devo fare di tutto per ripristinare la fisiologia e l'organo microbiota è un organo che appartiene al corpo umano con stessa dignità di tutti gli altri e anche lui ha bisogno di essere messo a posto, se no io metto a posto il corpo azzoppato perché me ne manca un organo, per questo che è importante mettere a posto i microbiota, perché se io metto a posto lui ho tutti gli organi che posso gestire, ma se io non ho i microbiota io metto a posto fegato, cuore, reni, tutto quanto e poi mi manca un pezzo, mi manca un pezzo perché l'intestino funziona sì ma solo se c'è i probiotici, quindi mi ritrovo con l'intestino che ha zoppato e un intestino a zoppato non corre, va bene? Non può correre, va bene? Scusa, dimmi, alla mia, ecco lo sapevo io avevo una bel po' di diapositive, non riesco mai a farle, io mi finisco sempre prima, poi eventualmente vi riservo per le domande. Ecco poi naturalmente c'è sempre possibile. Grazie a tutti, grazie abbiamo spiegato, splendida università devo dire. E adesso passiamo dalla parte diciamo così teorica, ma poi mica tanto perché siamo già andati sul pratico e vediamo appunto come la nutrizione, il microbiota e tutti i problemi che vengono quando questo equilibrio, quando si passa dalle ubiosi alla disbiosi saltano fuori. Dottor Gaetano Bianchi, medico chirurgo e consulente nutrizionale per la dieta zona. Ecco, la coscienza nutrizionale. Prego. Buonasera a tutti, innanzitutto un ringraziamento all'organizzazione che mi ha invitato a parlare a questa conferenza. Cercherò di, nella mia relazione, di spiegarvi in maniera molto semplice quella che potrebbe essere una delle cause della ormai dilagante epidemia di diverse malattie, tra cui il diabete, l'ipertensione, l'obesità e tutte quelle altre malattie che sono collegate con la sindrome metabolica. Il desiderio mio, ma credo di tutti voi, è quello di poter vivere una vita lunga, ma possibilmente sana. La ricerca della longevità in assenza di malattia dovrebbe essere il primo obiettivo che la medicina di oggi dovrebbe mettere sul piatto della bilancia. E oggi la nutrizione rappresenta uno degli aspetti più importanti per raggiungere tale obiettivo. Non può esistere salute senza una corretta alimentazione. Ed è per questo che il cibo, per le rilevanze e le ripercussioni che provoca nel nostro organismo ogni volta che lo introduciamo, deve essere trattato con lo stesso rispetto che abitualmente abbiamo per i farmaci. Il primo a parlare di cibo come una medicina fu Ippocrate, il padre della medicina, che disse fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il cibo, ma non solo, disse se fossimo in grado di somministrare a ciascuno la giusta dose di nutrimento e di attività sportiva avremmo trovato la strada della salute. Ed ancora tutte le malattie nascono dall'intestino. è passato qualche anno, ma oggi ad avvalorare questi aforismi, come diceva il dottor Lozio, sono a disposizione numerosissime ricerche scientifiche, come tra l'altro testimoniato anche dall'ultimo congresso internazionale di scienza e nutrizione che si è tenuto nel maggio, nella qui vicino a Milano, dove scienziati provenienti da tutto il mondo hanno ribadito con forza che una cattiva alimentazione, una inadeguata attività sportiva, ma soprattutto un'alterazione della flora intestinale è responsabile di una vera e propria epidemia, forse anche possiamo parlare di pandemia. Tutte queste malattie che voi vedete elencate sono senza dubbio la più grossa minaccia che i sistemi sanitari di tutto il mondo devono affrontare. in Svizzera, come molti voi saprete, i costi per la sanità crescono ogni anno. Siamo passati dai 70 miliardi di franchi dal 2013, sono previsti circa 80 miliardi per la fine del 2017. E l'ottanta per cento di questi costi è rappresentato da quelle che vengono chiamate malattie non trasmissibili, che sono quelle che abbiamo visto in precedenza. Coscienza nutrizionale, cosa significa? Tre parole. Scienza, conoscenza, consapevolezza. Quello che noi cerchiamo di insegnare ai nostri pazienti è quello di capire che gli alimenti che introduciamo non solo servono a scopo energetico a costruire i mattoni per il nostro corpo, ma sono in grado di stimolare delle risposte ormonali che incidono in maniera determinante sulla nostra salute. E questo ce lo dice la scienza. E di conseguenza, nel momento che io ho scienza e conoscenza, incomincerò ad avere un atteggiamento consapevole sulle mie scelte alimentari. E a quel punto sarò l'unico responsabile della mia salute. Non potrò più dare la colpa a nessuno. ed è per questo che è importante educare ad una corretta alimentazione partendo fin dall'adolescenza, in modo che la cultura del cibo, della buona alimentazione, dell'attività sportiva entri a far parte nella vita di ciascuno di noi. Gli alimenti normalmente vengono classificati in macronutrienti, micronutrienti, vitamine, sali minerali, oligolementi. Oggi io, per ovvie ragioni di tempo, mi concentrerò fondamentalmente sui carboidrati e su quello che ritengo l'imputato maggiore per quanto riguarda l'insorgenza di queste malattie, che è l'ormone in insulina. I carboidrati stimolano l'ormone insulina. Le proteine stimolano un ormone che si chiama glucagone. Sono due ormoni che vengono prodotti da una ghiandola, che abbiamo nel nostro corpo, che si chiama pancreas, e sono due ormoni che hanno effetti opposti. Quando l'insulina sale, il glucagone scende e viceversa. È una cosa importante questa, banale ma importante. Dobbiamo cercare di parlare tutti quanti la stessa lingua. Carboidrati, glucidi e zuccheri sono sinonimi. Io mi chiamo Bianchi, Gaetano, gli amici mi chiamano Gae. Tre nomi che identificano un'unica molecola che è il glucosio, cioè quella molecola che il vostro medico va a ricercare negli esami del sangue per eventualmente escludere una patologia come il diabete. Ed è questa molecola che va a stimolare la nostra insulina, che è l'ormone che noi dovremo imparare a tenere sotto controllo. I carboidrati. Classificazione semplice, perché in queste cose bisogna essere semplici. Le classifichiamo in due maniere, in un modo soltanto. Carboidrati di tipo favorevole e carboidrati di tipo sfavorevole. Questa classificazione è basata sull'indice glicemico, cioè sulla velocità del carboidrato introdotto con la dieta nel passare nel circolo sanguigno e pertanto innalzare la glicemia. Se un carboidrato viene digerito ed assimilato lentamente, parliamo di un carboidrato a basso indice glicemico e questa è una caratteristica favorevole, in quanto determinerà una bassa stimolazione insulinica. Viceversa, se un carboidrato viene digerito ed assimilato in maniera repentina, lo definiremo ad alto indice glicemico e questa è una caratteristica sfavorevole, perché indurrà una alta stimolazione insulinica. All'indice glicemico associamo il carico glicemico, che fondamentalmente che cos'è? È la quantità di zucchero che noi andremo a introdurre ad ogni singolo pasto, per cui più l'indice glicemico e il carico glicemico del mio pasto sono elevati, più veloce è l'assorbimento, più insulina verrà prodotta. Più l'indice e il carico glicemico sono bassi, più lento è l'assorbimento, meno insulina viene prodotta. Un esempio, che poi è quello che accade realmente. Un incendio a casa vostra. Quando scoppia un incendio a casa vostra, voi cosa fate? Chiamate i pompieri. I pompieri vengono a casa e spengono l'incendio. La stessa cosa avviene all'interno del nostro organismo. Ogni volta che consumiamo un impasto ad alto indice carico glicemico, ci troviamo in una situazione di iperglicemia. È scoppiato un incendio di zucchero. E l'iperglicemia, come molti di voi sapranno, è una situazione pericolosa. Può mettere a repentaglio la vita delle persone, ci può portare al coma iperglicemico. E allora il cervello, a questo punto, non può che mandare un segnale di pericolo alla nostra caserma dei pompieri, che è la ghiandola che si chiama pancreas. E gli chiederà di produrre dei pompieri, cioè il nostro ormone insulina. E l'ormone insulina avrà lo scopo, la funzione, di spegnere questo incendio. Come? Semplicemente prelevando lo zucchero dal sangue e trasportarlo dal sangue ai tessuti. Prevalentemente questo zucchero introdotto con l'alimentazione verrà depositato a livello del muscolo scheletrico e del fegato. Ma quando fegato e muscoli hanno fatto il pieno di carboidrati, gli zuccheri che abbiamo introdotto non possono, o meglio, i zuccheri che rimangono, non possono avere che un destino, cioè essere convertiti in grasso ed immagazzinati nei tessuti adiposi. Ma non è ancora finita. Una volta che l'insulina ha svolto il suo compito, quello di pompiere, che avviene a distanza di un'ora e mezza, due ore dal pasto, ci ritroviamo con la glicemia bassa. Ipoglicemia reattiva. E l'ipoglicemia è altrettanto pericolosa quanto l'iperglicemia. Ed ecco che partirà un nuovo segnale dal cervello che ci indurrà a mangiare di nuovo. Ed ecco che entreremo in quello che viene chiamato il circolo vizioso della fame perenne. Attenzione! Per scatenare questo circolo vizioso non è che devo mangiare un piatto di pasta. Basta semplicemente un caffè zuccherato con 5 grammi di zucchero per ristabilire dei picchi di iperglicemia. E di conseguenza il pompiere insulina interverrà nuovamente e ci ritroveremo nuovamente in ipoglicemia. E quindi nell'arco della giornata, se io non andrò a modificare la mia alimentazione, utilizzerò come fonte energetica solo e esclusivamente lo zucchero. Che parliamoci chiaro è il peggior carburante per il corpo. Lo zucchero mi serve solo se devo fare dell'attività sportiva, se devo scappare da qualcuno. Ma nella vita di tutti i giorni io devo allenare il mio corpo a consumare e bruciare grassi. Ricapitolando. Elevati livelli di insulina segnalano al corpo di immagazzinare grasso. L'insulina è responsabile dell'ipoglicemia reattiva, è responsabile del circolo vizioso della fame perenne. Però l'insulina ha alti difetti. Uno di quello è che stimola la produzione di colesterolo epatico. Si parla tanto oggi di prevenire le malattie cardiovascolari facendo attenzione a quello che mangiamo. Ecco, sappiate che più una dieta è iperglucidica, più stimoleremo colesterolo da parte del fegato. Alti livelli di insulina determinano un aumento del colesterolo cattivo e una diminuzione del colesterolo buono. L'insulina stimola la creazione di nuove cellule adipose. È un ormone pro-infiammatorio. Alti livelli di insulina creano una predisposizione organica di tipo infiammatorio attraverso la produzione di particolari citochine che determinano quella che ormai la scienza comune chiama infiammazione silente, infiammazione cellulare. C'è un qualcosa che vive costantemente nel nostro sottosuolo e che potrebbe dare anche il là a varie patologie. L'insulina è un potente stimolatore di fattori di crescita, quindi è un fattore che entra anche nella genesi dei tumori. E inoltre è un ormone che determina quella che viene chiamata ormai da tutti sindrome della permeabilità intestinale e quindi della disbiosi. Capite bene quanto diventa importante tenere sotto controllo questo benedetto ormone. Se impariamo a tenere sotto controllo questo ormone con il farmaco che si chiama cibo, e qui firmo nero su bianco, immediatamente avremo meno appetito, perderemo peso, libereremo le nostre cellule adipose dai grassi di deposito, avremo un miglioramento delle performance fisiche e mentali, preveniamo le malattie cronico-degenerative, possiamo prevenire e in molti casi anche curare la sindrome metabolica caratterizzata dal diabete di tipo 2, l'ipertensione, l'ipercolesterolemia, ma soprattutto un potenziamento delle difese immunitarie. Sappiate che il 75% del nostro sistema immunitario è localizzato nell'intestino, per cui se io tengo sotto controllo l'insulina, prevengo le disbiosi intestinali, la sindrome da permeabilità intestinale, le malattie infiammatorie e di conseguenza un potenziamento del mio sistema immunitario. per accedere a questo stato metabolico dobbiamo porci due obiettivi, l'attivazione metabolica e la calma insulinica, ovviamente. L'attivazione metabolica come la possiamo ottenere? con la corretta suddivisione dei pasti nell'arco della giornata, la corretta distribuzione delle calorie nell'arco della giornata e l'attivazione sportiva. La corretta suddivisione dei pasti prevede tre pasti, colazione, pranzo, cena, in particolari orari che devono essere rispettati. devono essere rispettati perché noi dovremo imparare ad alimentarci anche in funzione dei nostri cicli ormonali. Noi nell'arco delle 24 ore produciamo tutta una serie di ormoni che ci dicono quando è bene mangiare e quando è male mangiare. Ed è per questo che il pasto più importante della giornata è la colazione. Oggi la vita, gli impegni di lavoro ci portano a considerare il pasto serale quello più importante. Il problema è che è un pasto che va contro alla fisiologia del corpo umano. I termini colazione, pranzo, cena, a mio giudizio dovrebbero sparire. Dovremmo parlare di primo pasto, secondo pasto, terzo pasto. È un po' come il podio delle Olimpiadi. La medaglia d'oro la prende il primo pasto che corrisponde alla nostra colazione, il secondo pasto prende la medaglia d'argento e la medaglia di bronzo la prende la nostra cena. Però sembra una banalità ma queste sono indicazioni che nascono da scienziati che studiano la produzione circadiana dei nostri ormoni e ci dicono che al mattino è il momento migliore perché produciamo tutta una serie di ormone dal cortisolo al testosterone, al GH, che sono, scusate, agli ormoni tiroidei, che sono degli ormoni che ci dicono che è il momento migliore della giornata. l'attivazione sportiva, ormai gli studi che dicono quanto sia importante l'attività sportiva condotta con regolarità, sia fondamentale per appunto pervenire le malattie di cui abbiamo parlato prima, e l'altro obiettivo, parlavamo della calma insulinica. Dobbiamo controllare un asse, abbiamo, vi ricordate all'inizio, quando ho parlato anche del glucagone, che è quell'ormone che viene prodotto, stimolato dalle proteine, è un asse che dobbiamo tenere sempre in equilibrio e se noi ad ogni pasto, ad ogni spuntino, ad ogni merenda riusciamo a introdurre la giusta quantità di carboidrati, proteine e grassi, manteniamo sotto controllo l'ormone insulina e glucagone e ovviamente il controllo della qualità dei carboidrati. Quindi le mie scelte consapevoli dovranno essere rivolte a carboidrati, possibilmente a basso indice glicemico e valutare che il carico glicemico del singolo pasto non vada a stimolare eccessivamente la nostra insulina. Il rifiuto ovviamente dei cibi industriali e come diceva il dottor Lozio, l'integrazione dei probiotici in alcune situazioni sono assolutamente indispensabili per curare pazienti affetti ad esempio da diabete, da malattie infiammatorie, malattia di Crohn e quant'altro. Se riuscissimo a mettere in una pillola il buon cibo e una buona attività fisica probabilmente avremmo trovato il farmaco più benefico in assoluto e sicuramente quello più prescritto. Ho terminato, grazie. Volevo solo fare una domanda proprio veloce. Abbiamo sentito parlare di sindrome dell'assorbimento intestinale. Precisamente che cos'è l'intestino che ha disturbi nell'assorbimento in seguito appunto a quello che ci ho detto? Allora, mi riallaccio a quello che diceva il dottor Lozio. Il nostro intestino ha un'importanza vitale per la nostra salute. L'intestino è un impermeabile. L'intestino dovrebbe difenderci molto spesso dall'ambiente esterno. Ma se una cattiva alimentazione va a determinare una infiammazione delle pareti intestinali è come se in queste pareti si formassero dei buchi e quindi l'intestino viene a perdere la impermeabilità e farà in modo che agenti esterni vengono a contatto con il nostro sistema immunitario e quindi con la possibilità di scatenare tutta una serie di patologie, tra cui le malattie autoimmunitarie, che sono costantemente in crescita negli ultimi 20-30 anni. Sempre più bambini si ammalano di asma, sempre più bambini soffrono di psoriasi, come diceva il dottor Lozio. Sono tutte malattie, disturbi che nascono da un intestino alterato. Voi immaginate un intestino come un bellissimo campo di calcio, una bellissima merbetta inglese, ma a seguito di particolari abitudini della nostra vita, il rischio è quello che ci troviamo con un intestino paragonabile a un campo di calcio dopo che è passata una squadra di rugby piena di buchi. E questo non è assolutamente una cosa buona. Chiarissimo, grazie. Allora, adesso andiamo avanti. Abbiamo parlato della parte, diciamo così, clinica. Vediamo di parlare della parte chirurgica. Già, ma che cosa c'entra il microbiota, i probiotici con la chirurgia dell'intestino. Dottor Volontè, prego. Grazie mille, grazie a tutti di essere venuti così numerosi. Effettivamente vi domanderete cosa c'entra la chirurgia con i probiotici e vi rispondo molto francamente niente. Anzi, i probiotici sono quelle cose che vi terranno lontani, lontani dal chirurgo. Io sono appunto un chirurgo, sono un profano per quello che riguarda la probiotica, mi sono avvicinato negli ultimi tempi perché sono curioso e visto che sono curioso ho notato che si iniziava a parlare sempre di più di questi batteri, di come i batteri interagiscono con il nostro corpo, di come il nostro intestino permette di far vivere questi batteri all'interno di noi e trarne beneficio. Dottor Cianca Lepore diceva prima nel 2016 c'erano qualcosa come 6.000 studi, ho fatto una ricerca qualche giorno fa e utilizzando il termine microbiota appaiono qualcosa come 31.000 studi. Se affiniamo un po' la ricerca e mettiamo i probiotici, comunque gli studi sono qualcosa come 17.297. Quindi si è veramente esploso nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, la scienza che c'è intorno ai probiotici e si tende sempre di più a non considerarli come un complemento alimentare, come qualcosa sì che fa bene alla salute ma non si sa bene il perché, sono effettivamente degli elementi di base che ci permettono, come avete visto nelle presentazioni dei miei colleghi, di curare certe malattie e soprattutto di prevenirne molte. Ho messo questa mappa perché mi piace molto, la trovo artistica anche se non la capisco. Il punto è per dire nel nostro intestino ci sono migliaia di batteri, virus e altre bestiole che vivono con noi e si tenta di classificarli, di dargli un ordine, vedete quello che dà, è molto bello, è poco utile e si sa che c'è ancora molto molto lavoro da fare. Per avere una piccola idea, riprendo un po' quello che è già stato ripetuto dai miei colleghi, noi abbiamo qualcosa come uno a due chilogrammi di batteri che vivono nel nostro corpo, nel colon sono circa un chilo e mezzo, la maggior parte si trovano effettivamente nell'intestino crasso. Qui qualcuno ha tentato di dare una taglia e equivale a qualcosa come due campi da tennis, la superficie dell'intestino, quindi vedete che può essere colonizzata da veramente molti batteri e la superficie di scambio che c'è tra i batteri e noi è enorme. Se guardate i batteri sono molto più piccoli delle cellule umane, sono in numero estremamente superiore e per avere un'idea potete farci se li mettete tutti in fila due volte e mezzo il giro della terra. Come già stato detto ci sono dei batteri buoni, ci sono dei batteri cattivi e l'equilibrio tra questi due gruppi, per farla molto semplice, di batteri è quello che ci permette di star bene. Le obiosi è quando questi batteri sono in equilibrio, quelli buoni sono in numero giusto, tengono a bada quelli cattivi e impediscono giustamente di far partire questi processi infiammatori e quelli che ci servono di più. A noi sono i bifidi, come è stato detto fin dalla nascita, sono i lattobacilli e sono ecoli e altri interobatteri che sono un po' le guardie. Se una buona parte di batteri permettono di metabolizzare certe sostanze e di darci in cambio vitamine e nutrimenti, altri sono lì un po' come un esercito e servono per tenere a bada e uccidere quelli che possono nuocere, come sono i campylobacter, gli enterococchi, una parte, e i clostridi, quelli che danno le famose diarree che possono essere estremamente grave. Quindi, probabilmente dovevamo dirlo all'inizio, questo è quello che i miei colleghi hanno detto, quando i batteri buoni e quelli cattivi sono in equilibrio, la regolazione che esiste tra infiammazione e i processi patologici e quelli buoni invece di produzione di vitamine si mantiene. Quando i batteri patogeni superano il numero quelli buoni, si produce questo disequilibrio e i vari meccanismi all'interno del nostro corpo vengono sregolati. Questo è quello che diceva giusto un attimo fa il dottor Bianchi. Il nostro tubo digestivo è tappezzato da batteri. Una parte sono nella luce, all'interno del tubo digestivo liberi, ma una buona parte di quelli che ci proteggono sono appiccicati alla parete intestinale e impediscono ai batteri cattivi, chiamiamoli così, di attaccare, di penetrare la barriera intestinale, come succede quando c'è una disbiosi e quando questi batteri cattivi riescono a passare la barriera intestinale fanno partire dei processi di infiammazione, qui vedete la risposta del corpo, e questi processi di infiammazione e di ossidazione sono quelli che poi ci porteranno a sviluppare delle patologie. Questo è un concetto, chiaramente si sta studiando in questi anni per cercare di capire esattamente quali sono i meccanismi per poter avere un'interazione e poterli guidare o spingere. Vi direte appunto perché un chirurgo si interessa di batteri, ma perché, come diceva all'inizio del dottor Rozzo, il legame tra batteri, tra disequilibrio dei batteri nel nostro intestino e le patologie intestinali si sta manifestando veramente per praticamente ogni organo. Ci sono degli organi dove è lampante, degli organi dove non si sa ancora bene il perché, ma si vedono gli effetti, degli organi che non si capisce ancora, ma presto o tardi si scoprirà il batterio o l'interazione che permette di arrivare a una patologia e quindi di prevenire. Vedete, qui ho messo giusto alcuni esempi tirati da un articolo. Gli eccessi oppure i disequilibri possono portare a patologie del fegato, come ha detto il dottor Bianchi prima, a patologie del cervello, a patologie chiaramente coliche stesse. Il colon ha bisogno anche lui della flora intestinale e le patologie più manifeste sono quelle infiammatorie oppure di costipazione o di quello che viene definito colon irritabile. L'aumento del tessuto diposo, l'interazione con l'insulina, aumenta l'infiammazione e questo chiaramente è nefasto. Sono stati messi in evidenza anche dei legami con la terosclerosi e appunto con la sensibilità dell'insulina e tutto quello che deriva. Non si sa ancora bene come questi batteri funzionano, ma si sa che funzionano e che interagiscono. I meccanismi proposti, studiati e proposti, sono i seguenti. Li ho messi giusto per curiosità. I più chiari sono chiaramente bloccare l'adesione dei batteri patogeni sulla superficie dell'intestino e la diapositiva che avete visto prima. Questo permette ai batteri patogeni di essere espulsi o di essere attaccati e distrutti senza che possano causare danni alla parete intestinale. Provuono quindi la risposta immune intestinale stimolando le difese del corpo, porterò un esempio molto simpatico dopo. Mantengono i livelli normali, ho messo normali tra virgolette, di acidi grassi a catena corta, che sono quelli che passano direttamente nella barriera intestinale e che ci servono per dei meccanismi di base, il metabolismo di base estremamente importante. Modulano quindi le funzioni del sistema immune tramite tutte quelle proteine infiammatorie dell'intestino, quindi un intestino sano vuol dire poche allergie, come diceva il dottor Bianchi, vuol dire una migliore interazione con il mondo esterno e un intestino sano ci permette di difenderci meglio. I batteri buoni regolano e quindi riparano questa permeabilità intestinale. Alcuni, come vi dicevo, funzionano come l'esercito, vanno ad attaccare direttamente quelli patogeni distruggendoli e provano l'assorbimento di altre vitamine, altre sostanze che ci sono utili. Senza non potremmo vivere. Un tubo intestinale completamente sterile non ci permetterebbe di vivere più di qualche giorno. In pratica, visto che sono chirurgo, come si traduce nella realtà di tutti i giorni? Qui vi ho portato un esempio. Ci sono studi che del 2017, luglio 2017, stanno uscendo adesso. Non si riesce per molte patologie ancora a individuare il batterio, se ce n'è uno solo, o il meccanismo preciso. Quello che si riesce a fare è mettere in evidenza un disequilibrio. Qui vedete nel tumore del colon, questi sono dei sistemi per rappresentare i tipi di batteri che esistono, una parte dei batteri che esistono nel nostro intestino. Vedete le differenze che ci sono in un colon normale, in un colon con un tumore colico, sia nella mucosa intorno al tumore che nel tumore stesso, e in un colon che dopo la chirurgia è stato trattato con i probiotici. Vi dirà poco, ma notate che i colori sono completamente differenti e le quantità di batteri si spostano completamente da un gruppo all'altro. Questo apre delle opportunità estremamente interessanti da prima nella diagnosi, perché l'alterazione della flora batterica di un certo tipo può portare a dire che c'è qualcosa che non funziona in questo colon, c'è probabilmente un tumore. Non esiste ancora il test, ma arriverà molto presto, ci sono alcune riviste che già ne parlano, si può prelevare semplicemente il modo più semplice per sapere quali batteri ci sono nel colon e prelevare delle feci, coltivarle e con una certa conformazione, un certo spettro di batteri, il vostro medico potrà dirvi che dobbiamo andare un po' più lontano perché probabilmente nel vostro colon c'è qualcosa che non funziona e potrebbe essere un tumore. da lì a prevenirlo, andando a alterare la flora intestinale in un certo modo, passerà ancora del tempo, ma molto probabilmente si arriverà anche lì. Quello che si vede adesso e che si riesce a fare è chiaramente sulla costipazione, la modifica di certi batteri con trattamenti estremamente semplici per finire, ha un effetto molto molto buono sulla costipazione, sull'ipercolesterolemia e un effetto minimo sulla perdita di peso. La perdita di peso è interessante appunto per il chirurgo, io mi occupo anche di chirurgia dell'obesità e ero interessato a questi articoli che sembravano molto, promettevano bene, però erano studi che erano stati fatti sui topi. Modificando pochi batteri nei topi si riusciva a modificare in modo radicale il loro peso. Quando poi si è tentato di farlo nell'uomo non è stato così semplice perché probabilmente non è solo uno o due batteri, ma è un'interazione di più decine di batteri che possono permettere di modificare il peso. D'altronde si è visto con certi tipi di trattamenti di trapianto fecale, si riusciva a trattare delle malattie ma si induceva un sovrappeso nei soggetti trattati, quindi si vede che c'è una relazione diretta tra la flora intestinale e come il nostro intestino riesce a captare certi nutrimenti e quindi ad accumulare peso. Indirettamente appunto il Nature già nel 2006 descriveva un'associazione tra il microbioma, microbiota intestinale e l'obesità senza mettere in evidenza dei batteri particolari, ma quello che era interessante è che se si andava a guardare la percentuale degli adulti obesi, nel 2010 questo era, e il tasso di antibiotici consumati sugli stessi territori, c'era una relazione inversamente proporzionale, diretta, dove si andava a distruggere la flora batterica in un certo modo, questo portava ad un aumento considerevole del peso. Quindi da seguire è molto interessante. Contro la diarrea chiaramente l'avete sempre usati tutti per non fare pubblicità, ma ci sono dei probiotici che tutti avete portato in viaggio e che funzionano molto bene per la diarrea perché vanno ad agire, a distruggere direttamente i batteri incriminati e a rimpiantare una serie di batteri nuovi che permetteranno al vostro intestino di rapidamente debellare la patologia in corso. Per il closteridio difficile ci sono stati degli studi e dei pazienti in cui non si riusciva a trattare con vari tipi di antibiotici queste infezioni e il trapianto di feci che può sembrare una cosa abbastanza particolare ma che si fa in varie università, vuol dire andare a impiantare delle feci, quindi dei batteri di un donatore sano in un intestino malato, permetteva di guarire in poche ore o pochi giorni delle patologie che per settimane con antibiotici pesanti non si riusciva a trattare. Accennavamo prima appunto, visto che sono meccanismi che passano dall'infiammazione e tutto quello che è le malattie infiammatorie dell'intestino, la colite ulcerosa o il grande capitolo dell'intestino irritabile o intestino pigro o intestino spastico, ci sono sempre più studi e soprattutto pazienti soddisfatti che mostrano che andare a rimpiantare una flora sana o rimpiantare una flora semplicemente dove non c'era permette di guarire questo tipo di malattie. Non c'è ancora una grossa evidenza sulla malattia di Crohn, che è una malattia infiammatoria dell'intestino particolare nella pancreatite, ma non vuol dire che non c'è una relazione, ma semplicemente che non è ancora stata scoperta. Una cosa invece molto importante è nell'interocolite necrotizzante del neonato, appunto il dottor Lozio diceva prima che i pazienti o i bambini e i neonati che sono nati per cesareo non sono stati contaminati con questa serie di batteri e in effetti si vede che dopo cesareo ci sono molte più patologie infiammatorie e gravi nel neonato, quindi adesso si tende con manovre semplici come quelle di applicare un panno sfregato sulla mamma, sul viso, la bocca del bambino, oppure appoggiarla direttamente sulla pelle a recuperare quello che si perde con un parto per via bassa e poi si amministrano anche dei probiotici e questo ha un effetto, non dico miracoloso, ma estremamente importante su queste malattie del bambino. Molti studi stanno uscendo adesso sul microbiota e il sistema nervoso. Da prima la depressione si è visto che l'amministrazione di probiotici in pazienti che hanno un colon irritabile, un intestino delicato e una depressione porta a un miglioramento di entrambe le condizioni e questo già dopo quattro settimane. Un miglioramento estremamente importante appunto che spiega questo tipo di relazione. Più in generale tutto quello che è il sistema nervoso, le malattie neurodegenerative, il Parkinson o l'Alzheimer, si è messo in evidenza un rapporto diretto tra quello che succedeva nell'intestino. Un esempio per il Parkinson, l'alfasinuclina, che è la proteina che si ritrova ad accumularsi nei neuroni e distrugge i neuroni dei pazienti affetti da Parkinson, viene dall'intestino e probabilmente parte dall'intestino, in buona parte causa di una disbiosi, quindi una disregolazione di questa barriera che permette la sua partenza dall'intestino. Quindi, un po' riassumendo, tutto quello che è le infezioni e il sistema immunitario viene potenziato da una nuova regolazione del microbiota. E per farvi un esempio, le allergie, ad esempio questo è un articolo australiano che è appena uscito, il lactobacilloramnosus dato dei bambini insieme alla proteina delle arachidi a cui sono allergici, permette dopo 4 anni al 70% dei bambini di mangiare delle arachidi senza più essere allergici, senza mostrare nessun tipo di manifestazione allergica a queste proteine. Ed erano bambini che erano estremamente allergici, intolleranti, che non potevano neanche avvicinarsi a rischio di reazioni estremamente importanti. Quindi, per concludere, riprendendo quello che i miei colleghi hanno detto, il riposo, l'esercizio e l'alimentazione sono sicuramente qualcosa di estremamente importante per star bene e naturalmente un occhio particolare al nostro microbioma e ai probiotici che si possono assumere per migliorare la nostra qualità di vita e prevenire un sacco di malattie. Grazie. Aggiungo brevemente che per quanto riguarda, per esempio, le malattie del del cervello, e questo è uno studio che viene riportato anche nel libro che trovate all'ingresso, è stato constatato che c'è un miglioramento di alcuni sintomi in quella malattia che sicuramente avrete sentito, l'autismo. In caso di bambini autistici, ovviamente non gravi, ma in condizioni, diciamo, di autismo lieve o moderato, utilizzando i probiotici si è visto che alcune performance, alcune caratteristiche, come per esempio il comportamento, eccetera, effettivamente si ottiene un miglioramento. Quindi, e l'autismo non c'entra niente con i vaccini, ecco, diciamo anche questa cosa molto importante. Abbiamo rispettato benissimo i tempi, anzi siamo in anticipo sulla tabella di marcia, quindi aspettiamo le vostre domande. Io magari ne faccio subito una, dottor Lozio. Beh, allora abbiamo visto che i probiotici sono così importanti, che abbiamo bisogno di lattobacilli, abbiamo bisogno di bifidobatteri. Beh, domani andiamo al supermercato, riempiamo il carrello di yogurt e così ci facciamo il pieno di bifidobatteri e di lattobacilli. Beh, oddio, mica tanto, perché vi fate riempire soltanto il carrello di batteri, non di probiotici. Perché, vi ho detto prima, che i batteri sono specie specifici e quelli contenuti negli yogurt, quelli che fanno lo yogurt, sono specifici per le vacche, quindi vanno benissimo a loro. Lavorano a temperature decisamente più elevate, non hanno molto senso per colonizzare l'intestino. Lo yogurt è un ottimo cibo, quindi non stiamo qui a parlarne male perché non sarebbe giusto. È un buon cibo, è un buon alimento, ma i batteri continuano perché è già fermentato, già pre-lavorato, quindi ha tutti questi vantaggi. Ma non è un preparato che possa servire per colonizzare l'intestino di una persona che ha bisogno di probiotici. Probiotico è un prodotto serio, è come dire, io ho un'influenza, ho un'infezione, prendo qualcosa, bisogna prendere l'antibiotico giusto, non si può prendere un antibiotico perché ci sono gran positivi, gran negativi, cioè non c'è l'antibiotico che copre tutto. La stessa cosa cambia con i batteri. Purtroppo c'è una grande pletora di offerta, ce n'è un'infinità. Io adesso girando un po' l'Europa vedo una roba spaventosa, ma c'è veramente purtroppo vedo poca serietà. Perché il problema grosso è che stai andando in mano questo mercato al business. Il business non fa mai comunella con la qualità. E questo chiaramente diventa un problema serio per la persona che ha bisogno di prodotti seri e che si vuole curare bene. Quindi bisogna un po' affidarsi a persone e a personale competente perché c'è un problema di fondo. Abbiamo un batterio che fa una cosa, quando è bravo ne fa due, tre non è dato a nessuno. Quindi se io ho un problema devo capire in quale zona dell'intestino ce l'ho, qual è il problema e qual è il batterio giusto per quella zona, perché ogni batterio va in una zona diversa. Quindi se ho un problema intestinale del colon userò batteria del colon, se l'ho del cieco del cieco, ogni pezzo dell'intestino ha i suoi. Quindi il medico deve intanto già capire dove accidenti avete il problema. Perché andate lì e dice ho il mal di pancia, sai che roba, il mal di pancia come fanno con i bambini, è una croce, il mal di pancia cosa è? E ti fanno segno, mi fa male tutto. E ho capito che fa male tutto. Diventa un bel mal di testa andare a capire. Cioè curare i bambini è difficile che il pediatra più o meno è quasi un veterinario, perché non è che riesca tanto a poter dialogare, soprattutto con i bambini molto piccoli, perché fanno vedere dei segni, vi dicono ma non è che sono così bravi a poter definirlo. Però almeno l'adulto stia attento, stia attento dove ce l'ha, dove ha il dolore, a che ora ce ne ha, perché abbiamo i cichi circadiani, che vi diceva prima il dottor Bianchi, guardate che hanno vinto il premio Nobel in quelli che hanno studiati, non è che è una robetta che non serve a nessuno, è fondamentale rispettare i cichi circadiani e dovrebbe essere il primo scopo. E ricordiamoci che l'essere umano è un animale diurno, non è un animale notturno, va bene? E quindi deve rispettare i cichi del giorno. E questo pensate voi, rispetto alla versione dei batteri. Quando si assumono i batteri riescono ad aderire meglio all'intestino soltanto al mattino, si pigliano anche alla sera, ma se noi riusciamo a dargli al mattino è nettamente meglio, perché l'adesione è migliore, riscono meglio. E poi la quantità, perché vedete anche quando si dà la quantità e dice ah sì, te ne do 20 miliardi, 50 miliardi, perché più ce n'è meglio è. Guardate che non serve a niente, bisogna dare quantità corrette, giuste, di batteri corretti e giusti, perché quello che conta non è buttare dentro. Io faccio sempre come esempio, adesso non è un problema svizzero, perché voi non avete mai fatto la guerra dal 1500, quindi siete in pace. Ma nella seconda guerra mondiale, il buon Benito, che cosa ha detto, un milione di baionette, ha perso tutte le battaglie e ha perso la guerra e anche la testa. Le uniche battaglie vinte le ha fatte con le truppe speciali, alpini, paragodottisti e quelli che andavano con i maiali. Gli unici tre, per il resto ha perso tutto, perché? Perché non serve avere tanto, occorre avere pochi. Anche i tedeschi cosa avevano? I caristi che andavano bene, truppe speciali, i paragodottisti di Forstudent, erano poche persone ma estremamente competenti, estremamente brave. Stessa cosa va a fare nell'intestino, dobbiamo mandare giù batteri che sappiano fare bene il loro mestiere, o che sia metabolico o che sia un problema. Ti deluderò perché in Svizzera c'è stata una guerra circa 150 anni fa. Porco cane, ho fregato. Questo mi ha fregato. Perché io pensavo che l'ultima battaglia era quella di Menegnano. No, no. Era morto in Italia. 150 anni. Beh, insomma, comunque 150 sono tanti, eh. Allora, se ci sono domande del pubblico, prego, voi voletieri. Sì, buonasera. Non so a chi di voi rivolgere la domanda. Prego, lei rivolga la domanda. Ecco, allora, restringendo la mia domanda al colon, per esempio, mi sembra di capire che si sta arrivando a una diagnostica del eventuali tipi di batteri che possono creare o perlomeno favorire determinati disturbi o malattie. Ho visto una diapositiva, credo dottor Volontè, in cui si vedeva, se ho ben capito, che i batteri sono stati sequenzati nel loro genoma della fauna intestinale. Ma penso che sia in questo momento, dal punto di vista diagnostico, una metodologia piuttosto lunga e dispendiosa. Ecco, ci sono altri sistemi più veloci per arrivare a una diagnostica di quale batterio, batterio eventualmente va tolto o va invece incrementato? Purtroppo no. E questo perché ogni volta che si cerca se ne trovano ancora di più e si trovano delle famiglie, delle sottofamiglie di vari tipi. Quando si sequenzia il genoma si riesce a identificarli meglio e questo permette di andare un po' più svelto. Una volta sequenzare un genoma prendeva giorni, mesi, settimane e costava delle cifre. Adesso Google lo fa per quello umano in pochi giorni e per poche centinaia di dollari. Quindi la via che seguiranno questi grossi gruppi che si stanno lanciando in questo tipo di ricerche sarà appunto quello del sequenzaggio genomico e questo permetterà di avere delle risposte sempre più precise. Risposte che però noi non riusciremo ad analizzare ma ci penserà all'intelligenza artificiale e dei computer in cui si inseriranno tutti questi dati che probabilmente ci daranno delle risposte ma analizzando quantità di dati in mani e impensabili a gestire per un cervello umano. Diciamo che per adesso però un buon esame clinico già risolve il problema. Ci mette sulla strada buona. È chiaro, non possiamo ancora basarci su un test, arriverà. Per adesso sono gli indizi, sono i sintomi, sono la storia del paziente, sono l'esame clinico che ci permettono, che ci danno ancora più informazioni. Ma presto il medico sarà soppiantato in quest'arte? Quindi a breve, in questo momento, non c'è nulla, se non dei metodi induttivi. Medici, direi. Medici. Ma allora, queste, queste, mi piacerebbe dirle che in qualche giorno, qualche settimana avremo delle risposte. Sicuramente non saranno anni. La velocità con cui questo tipo di studi sta andando ci permetterà di avere delle risposte in mesi o pochi anni. Google sta facendo delle cose mostruose con delle quantità di dati inimmaginabili che sta raccogliendo. Ci sono tutte queste grosse industrie, americane soprattutto, che stanno raccogliendo quantità di dati tali che gli permetteranno di arrivare a delle risposte, per noi impossibili da gestire, ma che loro otterranno analizzando quantità in mani di dati. La quantità di dati è veramente enorme, però c'è una cosa. Se io vado a fare un prelievo di feci, perché alla fine si ricavano da lì, il problema è che io vado a vedere quella è la qualità, quantità di batteri presenti nell'ultimo tratto intestinale. Ma se noi calcoliamo che ogni circa 20 minuti noi abbiamo una moltiplicazione delle cellule. Se anche io vado a fare, attualmente con le tecniche che abbiamo oggi, se andiamo a fare un sequenziamento adesso, io so forse quello che ho nel retto e forse nel sigma, ma mica tanto dall'altra parte. Per cui il problema, siccome i guai avvengono nel tenue, cioè un metro e mezzo, due metri prima, io vengo a sapere quello che succede qua in fondo quando il problema... cioè io guardo il traffico di qui quando il macello è a Basilea, cioè cosa me ne faccio? Non mi serve, capite? Per adesso, più avanti vedremo se riusciremo a risolvere il problema. Per adesso è così. Perché bisognerebbe andare proprio a vedere lì, in quel punto, che cosa sta succedendo. In quel punto e poi dovrebbe essere istantaneo, perché io sto male adesso, faccio l'esame adesso, dovrei avere la risposta adesso. Se me la deve fare una settimana i batteri sono completamente diversi e li sono fregati. Per la diapositiva a cui si riferiva. Prima certi studi sono stati fatti nel tumore del colon, nella mucosa a mezzo centimetro dal tumore e un centimetro più distante ci sono tre flore completamente diversi. Quindi figuriamoci su un disastro, è vero? Hai ragione. Prego. Acceso? Ecco. Innanzitutto volevo fare i complimenti al dottor Lazio, perché io cinque anni fa... Lozio. Lozio, scusi. Io sono un ex paziente, seguo da cinque anni un po' la vostra teoria e sono più che convinto che il dottor Lozio ha pienamente ragione. Cinque anni fa ho vissuto un'odissea di due anni, girando più o meno tutti i medici e specialisti in Ticino, perché stavo estremamente male, avevo dolori in tutto il corpo, in tutte le articolazioni, mal di schiena estrema e nessun medico poteva aiutarmi. Quindi abbiamo fatto l'esame del sangue, in quale risultava che avevo una reazione autoimmune e comunque cinque anni fa nessuno poteva aiutarmi, quindi mi sono fatto una cultura generale su internet, cambiando completamente alimentazione e introducendo poi dei probiotici di tutto e di più. Io mi chiedo, quanto tempo ci vorrà che il medico generico sappia anche poter curare con questi probiotici, che tra l'altro ho appena fatto una cura della vostra casa, con grande successo, funzionato. Il problema è tuttora che questi probiotici non vengono pagati dalla cassa malati, io li trovo che siano estremamente importanti. e se uno non segue, perché io ho fatto una cura ultimamente per una banale cistite di antibiotici e mi sono trovato un cimitero nell'intestino. E quindi di seguito avevo di nuovo male alle articolazioni, al gomito, alla mano, mal di schiena estremo. Pensavo addirittura di avere una... che fosse la cistite degenerata sui reni. Sono andato a fare un'ecografia al Moncucco. Mi hanno spiegato che sicuramente è dovuto un'infiammazione dell'intestino, non è un'infezione renale. Quindi per fortuna mio medico molto bravo mi ha dato questi vostri probiotici nell'arco di già dieci giorni. Scusi signora, quindi la sua domanda è che l'uso, la sua considerazione è che questi probiotici dovrebbero essere meglio conosciuti dalla classe medica in generale. Esatto. E del resto questa conferenza, diciamo, ha anche questo scopo, far conoscere meglio queste sostanze appunto... Io lo trovo estremamente importante, perché io, perché vivo già molto sano, e poi è chiaro che oltre al probiotico sono più che convinta che l'alimentazione sana che io faccio in effetti da cinque anni sia importante, perché se io vado al supermercato, che ogni volta mi si strizzano i cappelli, che vedo prodotti con dentro, prodotti chimici, conservanti, coloranti, di tutto e di più, sono convinta che alterano la flora intestinale. E anche lì c'è una disinformazione generale che andrebbe iniziato già alle scuole dei bambini, perché io ho due figlie, e vedo, purtroppo io faccio delle paranoie alle mie figlie, e mano a mano stanno imparando, e però purtroppo c'è una disinformazione generale nella gioventù. Se c'è arrivato anche il chirurgo, possono arrivarci anche i medici curanti, può stare tranquilla. Però io devo dire... Che il chirurgo vorrebbe essere quanto di più estraneo, quanto di più lontale. Il problema della informazione sui medici, questo è un problema che dovrebbe partire non tanto sul medico direttamente, ma addirittura a livello universitario. Sì, assolutamente. Ora che verrà messo, questo non è un problema che posso risolvere io lì, sono i programmi piuttosto complessi, quindi bisogna decidere. Sul fatto che lei ha fatto osservare una cosa molto intelligente, invece, devo dire. Cioè i cibi che hanno i conservanti, sono stati i conservanti messi all'interno per uccidere i batteri. Se io mangio un cibo con i conservanti, io mi prendo un antibiotico per i batteri. Quindi ogni volta che un soggetto mangia cibo trattato con i conservanti, lui fa una moria, crea una moria di batteri. Quindi tutti questi cibi conservati, i cibi per esempio, poi anche le verdure. Cioè io dico una roba, una volta mi ricordavo che la verdura, una volta raccolta dopo due giorni marciva. Adesso dopo sei giorni appassisce. Una verdura vera dopo due giorni cammina da sola, si muove. Adesso non marcisce più, diventa dopo sei giorni appassita. È più bella, devo dire, veramente più bella. Ma noi mangiamo, siamo diventati fini esteti, mangiamo tutta roba bella, ma che di sapore non ce n'è mica. E soprattutto di valore biologico. Cioè con altri batteri non ce n'è. E questo qui comporta che già col conservante ne ammazzo. Con qualche antibiotico preso ogni tanto ne ammazzo un altro po' e poi pretendono anche di stare bene. E beh, voglio dire, insomma. Mi pare che le pretese siano più, siano superiori rispetto a quello che noi facciamo a sti poveri batteri. C'è una signora che vuol fare una domanda qui. Ah. Aspetti, eh. Buonasera, mi rivolgo al dottor Bianchi. Mi interessa l'argomento che lui tratta, perché io ho fatto un corso di coce. Può tenere il microfono vicino alla buca, così sentiamo tutti. Seguo l'argomento anch'io, mi piace. Volevo sugli orari della cena. Li sono persi, mi interesserebbe riaverli, magari, se puoi dire. Allora, la cena dovrebbe essere consumata tra le 18 e le 20. Tra le 18 e le 20. Perché alle 20, quando parliamo di cicli circadiani, alle 8 di sera noi fisiologicamente andiamo a produrre l'ormone insulina. Ok. Quindi che cosa succede? Che inevitabilmente, se noi mangiamo in maniera abbondante, con una scelta di macronutrienti sbagliati, dopo le 8 di sera, corriamo il rischio di quella che viene chiamata proprio stratificazione dei grassi corporei. E quindi molto spesso alla mattina ci alziamo con la pancia gonfia, col girovita aumentato, e tutto sommato molti, magari di notte, hanno anche disturbi del sonno. Perché questo? Perché l'insulina, insieme all'ormone della crescita, è un ormone anabolico. Sono due ormoni che devono intervenire per fare in modo che le cellule che durante l'arco della giornata sono andate distrutte, vengono riparate da questi due ormoni. Ecco perché la cena deve essere una cena leggera. I nostri nonni già ci raccontavano colazione da re, pranzo da principe, e cena da povero. oppure invita a pranzo il tuo miglior amico e invita a cena il tuo peggior nemico. Ecco, oggi la scienza ci sta aiutando a risolvere tutti questi aneddoti. Quindi la risoluzione del fatto che la stragrande maggioranza delle persone la mattina non riescono a far colazione, la saltano di pieparo, è dipendente soprattutto dalla cena. Assolutamente sì. Fatto in modo scorretto. Assolutamente sì, però è chiaro che se voi stasera andate a casa e fate una cena a frugrare, non è che domani mattina vi alzerete con il desiderio di mangiare. È un allenamento. Io devo abituare il mio metabolismo a stimolarlo in una certa maniera e io vi dico, dopo sette giorni, anche prima, vi alzerete al mattino e avrete voglia di mangiare. Ma perché? Perché è il corpo che ve lo chiede. È quella parte subcorticale del nostro cervello che è deputato alla nostra sopravvivenza che vi dirà che il momento migliore è quello. Ma ovviamente, se alla sera facciamo delle belle trasgressioni, io stesso sono il primo che poi al mattino dico, ma caspita, devo mangiare? No, faccio fatica. Bene, grazie. Prego. Complimenti per la conferenza. Grazie. Io volevo dire, si è parlato di psoriasi legata al malfunzionamento dell'intestino, no? Io ho fatto l'esame del sangue e mi hanno trovato un'infermazione forte e soffro danni di un prurito perenne, diciamo. Cosa posso fare? Che consigli mi date come stradare il medico su una ricerca per risolvere il problema? Il prurito bisogna vedere da che cosa è originato, perché il prurito può essere anche la vina nel sangue, se uno ha una cirrosi migliare primitiva o ha una collagite scarosante e si gratta per altri motivi. Cioè il prurito, bisogna vedere se è dovuto all'absoriasi o meno. Se è dovuto all'absoriasi, sappiate che il problema parte sicuramente dall'intestino e dando dei batteri adeguati per l'intestino, non i primi che capitano, ma batteri mirati, cioè batteri che sono in grado di andare a lavorare sulla bilancia tra i vari... perché nei sistemi immunitari noi abbiamo quattro sistemi immunitari, è un macello dentro, non pensi mica se è una roba facile. Bisogna andare a stuzzicare l'unico di tutti i sistemi immunitari che dorme, che è il controllore, cioè quello che viene chiamato T-REG, cioè il ninfocita T regolatorio. È lui che dorme, perché a quel punto se lui dorme, gli altri, i famosi topi balano, e quindi chi prevale poi si mette a fare disastri e fa disastri di vario tipo. Quindi bisogna per riprendere il controllo del sistema immunitario, qualsiasi sia la manifestazione, è il riprendere, ridare un attimino potere, va bene, potere di condizionamento, a questo T-REG. È questo che bisogna andare a stimolare e lo si fa grazie alle placche dei piedi. Diceva il dottore prima che noi abbiamo... Sono componenti immunitari che si trovano l'intestino. Perché l'intestino ha il 75%, poi uno dice 75, uno dice l'80, chi dice il 60, perché dipende se è adulto, bambino o meno. Ma comunque sia, la quota maggioritaria, nettamente maggioritaria, del sistema immunitario sta nel tenue. Perché noi abbiamo 120 placche, ma le 40 del colon lavorano poco. Sono quelle del tenue, quelle che sono il perno del sistema immunitario. E si trovano tra la zona del duodeno, scusate, del digiuno e dell'ileo. Quindi si trova in una zona ben definita, dove oltretutto c'è il metabolismo delle proteine. Ma è una zona molto particolare. Quindi io devo andare a lavorare lì se voglio mettere a posto. E lì c'è la stanza dei bottoni del sistema immunitario. Io se tocco lì, riesco a toccare in modo giusto, perché si può anche toccare in modo sbagliato ovviamente, se lei va da un professionista che conosce i prodotti e usa i prodotti giusti, lei è in grado di poter gestire al meglio queste cellule. Quindi stimolare queste cellule a fare il loro lavoro, che hanno dimenticato. Perché, vede, molte malattie, come anche i tumori, per esempio, noi abbiamo un sistema immunitario fatto da delle cellule, si chiamano natural killer, che sono deputate, sono il loro compito di uccidere le cellule tumorali. Se un tumore si sviluppa è perché queste cellule non hanno svolto il loro lavoro. Perché invece che a lavorare sono andati in vacanza, sono andati a fare altre cose. E se non fanno quello che devono fare, chiaramente le malattie, le cose che devono fare, le fa qualcun altro. Quindi è l'intestino che tutto il sistema immunitario deve funzionare bene. Perché se funziona bene quello, funziona bene tutto. Pensate voi ai bambini, no? Adesso il bambinetto, con l'infreddo, rischia di prendere qualche malattia delle altre vie respiratorie. Ma il bambino ha l'80% del sistema immunitario nell'intestino. Se lui ha un intestino in disordine, i linfociti, cioè i soldati dell'intestino, non vengono imprestati alle tonsille, piuttosto che all'anello del valdaio o al naso. Dice, se hai problemi, arrangiati. Io ho un macello nell'intestino e tengo i miei soldati qui da me perché è più importante presiedare l'intestino perché l'intestino è la fonte della vita. E quindi il bambino si ammala un giorno sia l'altro pure. Per non farlo ammalare gli devo mettere a posto l'intestino a quel punto con un intestino sano e in ordine, che quindi mangia bene, bello, sa? A quel punto mi ritrovo un intestino così tranquillo che, oh Dio, va bene, va. Vuoi che ti impresti qualche cellula? Te la impresto. e quindi aumento la capacità di risposta alle infezioni perché lo intestino è in ordine ma se no gli intestino è in ordine non gliele do. È normale. Capite? Quindi si può fare molto però lì adesso nel caso suo specifico bisogna capire un attimo cioè non è che si può risolvere il prurito è un sintomo. Capisce? Quindi se c'è un sintomo d'apsoriasi il prurito d'apsoriasi c'è ma ci possono anche essere pruriti. Per esempio se lei ha pochi batteri ha poco DAO DAO è un enzima che serve per bloccare la conversione di istidina in istamina se lei mangia per esempio faccio un esempio banale la soia la soia è ricchissima di istidina quindi se lei ha dei batteri che trasformano e ne ha circa 10.000 miliardi quindi non è che ne ha pochi trasformano l'istidina in istamina lei si gratta come una scimmia senza sapere per quale motivo perché se lei prodotta da sola senza controllo ora lei deve tenere deve fare in modo tale di andare a bloccare questa questo enzima che viene ad essere mancante cioè sono tante le cause del prurito e i batteri governano su moltissime cause non dico tutte perché insomma prego una persona che ha la diverticolite o che ha avuto delle crisi di diverticolite ogni sei mesi mi chiedono di fare la colonoscopia rettoscopia e quant'altro sembra che sia tutto a posto però nessuno mi ha mai parlato di una possibile guarigione mi hanno detto è lì finché ti controlli sta ferma dal momento che in cui non ti controlli più io sono una mangiatrice folle di cioccolato e tutte queste cose ti attacchi e prendi le tue crisi è vero però cioccolato è buono è vivo è una vigliacata come è buono d'altro caso diceva Oscar Wilde che le cose buone o sono proibite o fanno ingrassare esatto e quindi ma nel momento in cui fai una colonoscopia o queste diciamo la diverticolosi dopo sicuramente ne può parlare di Dottor Volotè con immensa più competenza ma non si può guarire perché ormai è una smagliatura quando ce l'ha se la tiene è una smagliatura della mucosa per tirarle in moneta quindi lei ha fatto cioè lei te che pensate che il 70% delle persone sopra i 50 anni ce li hanno va bene hanno diverticoli il 70% a livello mondiale però la diverticolosi non è una roba pericolosa è uno stato normale è la diverticolite che va curata e va curata quando c'è l'infiammazione c'è l'infiammazione la diverticolosi si può mantenere usando dei batteri che colonizzano il colon guarda a caso sono i rhamnosi i lattobacini e i rhamnosi sono i batteri più facili a colonizzare quella zona quindi è sicuramente una raggiunta ha già detto tutto il dottor grazie l'unica cosa è che appunto si è fatto una diverticolite poi si va a controllare con una colonoscopia ma in assenza di sintomi ogni sei mesi una colonoscopia è inutile è solo rischiosa se non ci sono polipi non ci sono altre lesioni si può anche allargare un attimino i controlli io le farei più spaziate scelta che c'è una signora lì dopo arriviamo su grazie era interessante grazie per la serata c'è una domanda al signor può tenere il microfono vicino alla bocca al signor Lozio insomma parliamo dei prodotti Bromatech stasera più o meno perché si tratta di batteri no? e qui sono 12 prodotti differenti e su questi avrei diverse domande di dove vengono questi prodotti come vengono prodotti penso che lei è giusto che credo lei sì dove sono in vendita e chi mi dice cosa devo prendere grazie prego cioè chi le dice come deve prenderli dovrebbe essere il medico perché almeno il medico che è in grado di poter capire quali dare quali usare sono prodotti attualmente in Italia sono prodotti è l'azienda che è l'unica attualmente a livello europeo che fa il controllo di tutta la merce in entrata e la merce in uscita perché bisogna stare attenti noi diciamo che mettiamo dentro qualche cosa ma non è che fabbrichiamo il batterio il batterio non si può fabbricare cioè sono delle aziende apposte che lo producono e quindi poi è complicato perché i biviti sono strettamente anaerobici comunque vengono fatti decisamente bene nel senso che vengono controllate che le quantità è tutto è l'unica azienda per esempio che dà la garanzia della chef life cioè della quantità minima di batteri vivi alla scadenza perché un conto è dare i batteri un conto è dare cioè io dico metto dentro 20 miliardi ma di roba vive o di roba morta perché se la metto vive dopo 6 mesi sono morti serve a niente perché l'intestino in cui morti si colonizza il cimitero non si colonizza un accidente quindi ho bisogno di batteri vivi e questa è la cosa più importante quali scegliere diventa un po' un pasticcio perché sono 12 in Italia sono 16 e chi è solo ancora peggio siamo ancora più inguaiati bisogna che il medico impari però il problema grosso è quello che diceva prima la signora che è intervenuta bisogna che il medico impari studi perché è una scienza nuova è nata nel 1996 non l'azienda ma la scienza probiotica perché prima non c'era la tecnica della liofilizzazione non spinta per cui non si poteva avere la materia prima quindi fino al 1996 non c'erano i probiotici quindi è una materia che sono 21 anni che è disponibile sul mercato e quindi un medico che ha 20 anni di laurea non sapeva neanche cosa sono capite quindi anche loro con tutte le robe che andano a studiarci mancava solo questa rogna quindi è una cosa in più che loro devono studiare che bisogna che qualcuno gliele spieghi e qui purtroppo c'è un altro inghippo sono in pochissimi che a livello anche europeo sanno la materia sono veramente pochi perché sono tanta gente improvvisata ma di gente competente che ne parla si contano su una mano monca va bene tanto per dire perché sono veramente pochi ce n'è qualcuno ma è merce rara perché bisogna come si dice io sono 15 anni che faccio solo questo penso dalla mattina alla sera anche quando guido la macchina penso ai batteri dove sono andati a finire mentre guido cioè tutto io alla sera quando vado a dormire dico ma questi li metto a dormire faccio solo questo quindi perlomeno diciamo che ho una me li smazzo senza problemi ma per un medico già imparare tutti i probiotici tutti sti nomi strambi cercare di arrivare a capire come usare uno come usare quell'altro è una cosa difficile bisogna applicarsi con metodo e piano piano perché se lei pensa che un medico stando anche a studiare come un matto impari a usarli tutti e 12 in una settimana le garantisco che fa solo dei danni perché sbaglia perché è una cosa complicata non è una roba semplice ma va fatta va fatta perché è troppo importante perché non si può io sentivo l'altro giorno io trovo lontano di dirmi una cosa che non la sapevo prima quando si facevano le operazioni si sterilizzava tutto si buttava via tutti i batteri si cristalizzava hanno visto che se si fa questo il postoperatorio è peggiore adesso non lo fanno più perché hanno visto che se lasciano tutti i miei batteri lì dentro l'intestino guarisce prima dopo le operazioni cioè addirittura il contrario stiamo parlando di quello che c'è nell'intestino e non di strumenti o altre cose quelle sono sempre i nostri batteri non quelli che ci sono sui feri del chirurgo no 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 i nostri feri chirurgici quelli no assolutamente quindi è una cosa un po' difficile da fare però è giusto che il medico impari perché è uno strumento in più per guarire patologie che molto spesso sono incurabili perché non si cioè non sono mortali sono fastidiose come peggio di una zecca cioè non si sa che diavolo fare non muori ma non stai bene la colite la colite di colite non è mai morto nessuno ma vivono vivono una vita grama chi ha la colite quindi riuscire a trovare il sistema con i batteri di aiutare queste persone in patologie è fastidi le afte le afte cosa sono una rogna non si muore guardate che con l'afte non è mai morto nessuno mai ve lo garantisco ma chi ha un afte in bocca per qualche giorno sta male ora c'è uno strumento per guarire ma perché non usarlo capite però bisogna imparare un po' per volta tutti insieme diventa un disastro rapidamente ci sono delle controindicazioni nell'uso dei probiotici o la controindicazione è scegliere il probiotico sbagliato allora se uno sceglie il probiotico sbagliato rischia magari di avere degli effetti non mortali niente di grave però magari qualche effetto non piacevole c'è sbagli magari viene una costipazione cioè diventa stitico oppure diventa e si gonfia la pancia di aria di aria di metano insomma di gas oppure il soggetto viene ad avere non so la diarrea cioè se si esagera anche con i probiotici buoni si fa disastro quindi non ci si può affidare ma oggi ne piglio due di questi tre di quell'altro e faccio così alla carlona non si va da nessuna parte bisogna sapere quello che si ha prenderlo per tempi definiti definito vuol dire un tempo che il totale della terapia io quando la terapia superi 40 giorni già comincio a tremare perché 40 giorni è veramente lo stramassimo che si dovrebbe dare più di 40 giorni non ha molto senso perché io in 40 giorni devo colonizzare e avere i batteri già lì che fare il loro lavoro io per esempio personalmente mi curo io mi curo malissimo mi curo in totale all'anno 20 giorni ad aprile e 20 giorni ad ottobre poi io mediamente sono sano non prendo nient'altro e sto bene e vado via tranquillo vado via come l'olio io proprio vado e questo perché perché io ho colonizzato giusto ho messo lì la mia roba mangio spero decentemente perché spero vivendo molto spesso in albergo insomma si fa finta di mangiare bene ma non è che si mangia sempre bene ma bene o male vado bene globalmente non ha senso prenderlo sempre va bene a meno che non ci siano delle patologie particolari di questi tre qua per il mio intestino beh io prendo fondamentalmente uno che fa sono dei batteri che servono per fare tosa erba io toso l'erba perché non prendo un antibiotico perché l'antibiotico è sempre un diserbante selettivo e quindi ne ammazzo qualcuno e lascio libero l'altro e quello che non muore piglia il posto di quello che è morto e quindi non faccio altro che fanno disbiosi di ritorno quindi prendo invece un tosa erba che ranza tutto poi prendo dei batteri che qual è il tosa erba? beh il primo batterio vabbè lo devo dire perché ora me lo chiedono va bene si chiama il primo si chiama enterelle va bene il primo batterio il secondo è una miscela di bifidi e batteri perché io devo colonizzare come quando sono nato con i bifidi per il primo anno di vita e il prodotto si chiama bifiselle va bene così a meno siete tranquilli poi una volta che io ho messo giù tutti questi batteri devo impedire che altri vadano nel mio prato voi avete dei prati bellissimi tutti verdi non avete alla gramigna o altre forme di vita erbacea che vi infestano il prato se ce l'avete dovete tirarlo via bene per evitare che altre forme di batteri vadano lì io devo metterci dei contenitori quindi ho messo a posto l'intestino tenue dove si gioca la vita vera e poi metto alla frontiera i latto bacilli cioè stomaco duodeno e prendo il rammnoselle sono i rammnoselli i latto bacilli sono i batteri che fanno a botte sono quelli che sono i soldati i militari che presidiano le zone di possibile ingresso nel parco giochi dell'intestino tenue capite e questo è il meccanismo quindi prendo prima uno poi l'altro poi quell'altro in sequenza però adesso non facciamo più nomi basta basta non facciamo più nomi mi ha violentato la signora con le parole e poi soprattutto una cosa che abbiamo detto prima attenzione al fai da te no ecco mi raccomando questi sono i batteri che uso io ma poi le quantità le cose perché lui li conosce quindi beh insomma prego altre domande e noi dobbiamo però quando uno va a fare il viaggio prende il toserba perché il toserba sterilizza le batterie cioè fa passare la diarrea perché uccide la gente infettante che ve l'ha creata mi raccomando nei viaggi non prendete mai l'antibiotico mai si prende perché l'antibiotico si deve prendere quando si è identificato la gente che vi ha creato la diarrea quindi mai mai un uso generico ecco mai un uso generico se non si usa altre domande ce n'è un mucchio qua c'è la signora c'è la signora tanto non vado via io sto qua non ho problemi prego signora allora è molto difficile diagnosticare per un medico curante quali saranno o dovranno essere i nostri batteri che dobbiamo prendere per e come facciamo prendiamo tutta la serie della no 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 assolutamente no in farmacia ti danno tutta la serie ti danno i giorni come fare a prenderli e allora no ci dovrebbero essere come dice lei specifici ci sono delle indicazioni ora i farmacisti e i medici molti sono venuti a fare dei corsi e hanno imparato ad usarli ora io non posso sapere quanti medici sono venuti ai corsi perché io non lo so ma ci sono molti medici del Ticino che sono venuti a più corsi perché poi non sono mica solo io sono venuti anche ad altri corsi infatti dai miei colleghi a parlare e a insegnare ad usare i prodotti abbiamo molti farmacisti questo devo dire molti che sono venuti ai corsi e hanno imparato ad usare non dico tutte le cose più raffinate e per le patologie più complesse ma almeno le più comuni e le più semplici le hanno imparate bene questo sì e per le altre bisognerebbe comunque fare degli esami delle feci cioè altri esami non è che si potano no l'esame delle feci lei deve fare quello che diceva il dottor Volontè quella che lei non deve fare che deve fare il medico che è la semiotica medica sentire segni e sintomi segni e sintomi le dicono tutti e quello come ha detto il dottor Volontè è già mettersi sulla buona strada è già buono ci sarebbero dei segni dei sintomi che vi posso anche dire però è prima di pranzo per cui non è il caso ma anzi prima di cena perché il dottor Bianchi dice di mangiare poco perché ricordatevi che il dottor Bianchi ha detto la dieta del pezzente a mezzogiorno poco e alla sera niente sta bene? altre domande lì prego non va il microfono non va il microfono oh mamma mia beh ma cari se siamo è partito eh? no non si usano il fermento lattico serve cioè il fermento lattico è facile lattico va bene ma si parla di probiotici perché il fermento lattico non vuol dire nulla è troppo generico si parla di probiotici ma si usano si usano quelli che vi ho detto prima che tecnicamente parlando proprio dal punto di vista non sono proprio dei probiotici ma sono dei disinfettanti estremamente efficaci fisiologici dell'intestino quelli si usano quando si va in giro poi quando torna dopo l'infezione a quel punto li prende prende i probiotici la signora è in alto dica chi è? come? domanda? la domanda è quale è la colazione raccomandata? del campione? dottor Bianchi prego allora è un po' generico dire qual è la colazione raccomandata i pazienti quando si rivolgono a me faccio un'anamnesi e allora a seconda delle patologie di cui soffre il paziente si imposta un percorso terapeutico e quindi a seconda dei casi si imposteranno delle colazioni che possono essere assolutamente diverse l'una dall'altra dirle adesso sui due piedi cosa mangiamo domani mattina sarebbe un grosso errore culturale e non me la quindi a seconda dei casi ogni singolo paziente andrà ad assumere quegli alimenti che sono necessari per migliorare il suo stato di salute sì non si sente nulla ferma lì prendo l'esempio di una persona senza patologie dunque senza necessità di fare un'anamnesi proposta di una colazione classica tra virgolette sana frutta per esempio assolutamente sì cereali non trattati per esempio ecco invece della colazione tradizionale col pane burro il miele la confittura che più ne ha più ne metto o cereali trattati che adesso sono vanno molto di moda allora siamo già alle 20 e 37 quindi direi di terminare qui so che poi dopo la fine della conferenza ci sono gli extra le domande extra comunque agli extra se qualcuno vuole fare le domande allora un ringraziamento prima di tutto a voi che siete venuti così numerosi alla Bromatec alla clinica Sant'Anna adesso c'è un buffet che sarà povero giusto l'ho fatto fare io grazie ah vi ricordo di prendere pure all'ingresso tutte le schede informative che possono essere molto utili grazie ah ecco che gli stavo dicendo non c'è ma no per chi per chi vuole oh ma che non c'è un Celtic un oc�ano ma per chi non c'è un non c'è